La dieta mediterranea sarà protagonista venerdì prossimo, 28 ottobre, dell'evento Mediterranean Food Lovers, nella suggestiva cornice del complesso monumentale di San Domenico Maggiore. È un'iniziativa organizzata dal Comune e dalla Fondazione Tecnologie Innovative per i beni e le attività culturali e turistiche, per promuovere e valorizzare il patrimonio enogastronomico insieme a quello storico, artistico e culturale della città. Mettere insieme cibo, arte e turismo è una ricetta perfetta per tenere solide le radici e l'identità di un territorio che con la dieta mediterranea è, diciamo, detta la linea mondiale dello sviluppo e della salute, e nello stesso tempo far crescere le attività produttive e l'arrivo dei turisti che molto spesso sono legati con le loro permanenze ad eventi legati alla gastronomia, legati al buon vivere, legare al godimento delle bellezze che sono intorno. Quindi una miscela perfetta per far crescere ulteriormente la città e la città nel mondo. Con il supporto dei giovani allievi della Fondazione, nell'arco della giornata si terranno una serie di appuntamenti sul tema della sicurezza alimentare, ma anche seminari e dibattiti sull'arte, sul turismo sostenibile e le nuove tecnologie. Sono previsti momenti di intrattenimento musicale e la possibilità di assaporare le eccellenze della nostra terra. Gli allievi della nostra Fondazione, che sono dei laureandi nel settore delle attività culturali e nel settore turistico, hanno organizzato questo evento dove avremo la possibilità di avere un accoppiamento tra le start-up innovative che si presentano nel settore, tra il mondo della cultura e i giovani talenti della campagna dell'alberghiero di Castello Alturno che cucineranno e serviranno pasti per tutto l'evento e soprattutto avremo la possibilità di mettere insieme il mondo sociale col mondo dell'istruttore e col mondo economico.